Carlo Forti è il presidente della sezione Cappello di Confindustria Fermo, ci troviamo proprio nel distretto naturale del Cappello, siamo a Montappone, nasce questa fabbrica pilota, questo progetto proprio per incentivare questo settore. Innanzitutto le motivazioni? Abbiamo sempre più bisogno di mano d'opera specializzata, di gente formata e di ragazzi in particolare che vengono inseriti nel nostro settore. Il distretto sta crescendo sempre più di qualità, dunque la specializzazione e la professionalità è sempre più importante. Questo è un progetto che è partito da molti anni, con la scuola, con l'Ipsi e Moda in collaborazione, andando a formare direttamente le persone alla scuola, poi degli stage lavoro, scuola lavoro. E infine Confindustria Fermo, con il presidente Santori, ci ha dato questa possibilità di essere operativa con la scuola, la fabbrica pilota, la scuola diciamo. Stefania Scatasta è la dirigente dell'Ipsia Ricci di Fermo, dove appunto si svolgerà questo progetto fabbrica ideale. La scuola come accoglie questa idea? Ma positivamente, perché dà continuità comunque a un progetto di alternanza scuola lavoro che noi con il distretto del cappello già attiviamo da diversi anni. L'idea in questi anni è stata quella di estendere a tutte le classi della nostra scuola questa attività, piegando la programmazione curriculare verso lo studio e la realizzazione dei cappelli, sia per quanto riguarda la progettualità anche artigianale. Per cui per noi è davvero un'occasione grande il fatto di poterci confrontare con le aziende ed attivare processi di miglioramento nella nostra formazione professionale. Mauro Ferranti, sindaco di Montappone. È un'importante iniziativa per una città che è un po' il simbolo del distretto del cappello, questa della fabbrica ideale? È assolutamente sì, questa è un'operazione che sta andando veramente a buon fine, dando dei frutti enormi e considerando il contenuto per cui si è partiti. Chiaramente parlare in questo periodo di formazione è certamente la base per rialzarsi e andare avanti. Questo è un distretto nel quale le persone sono abituate, parlando di paglia, da un prodotto povero alla creatività e quindi al lavoro e conseguentemente parallelamente questa fabbrica pilota, questo progetto, è una fotocopia di quello che è stato nei tempi passati. Chiaramente con la tecnologia di cui oggi si può disporre e l'esperienza delle maestranze che sicuramente saranno all'altezza per dare quella competitività, quella giusta formazione a chi parteciperà.